Numero 24 24 Ne metti una per gambe e per braccio Numero 13 Numero 13 Numero 13 Ok Anche la maglietta? Eh sì Grazie Non riesco a nottendare la pensione e neanche ridere Numero 08 No, 80 Cos'è che è? 08 08 Vai Fabien Bravo È il terzo classificato eh Vai 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 Numero 05 05 Oh Grande Bravo Dammi il numero Eh? 05 Grande Numero 29 Numero 29 Vieni 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 a prenderlo a te Ce l'ho io giuro Ok Numero 0 4 4 Dammi il numero Dammi il numero Dammi il numero Dammi il numero ok, numero 31, 3-1, ok, un orologio per il numero 23, 23, basta, non ne ne andiamo più, lascia qua 10 euro, 10 euro e ti diamo il premio, 10 euro, lui li ha già dati anche non correndo, ma ha ritirato per quelli che non lo sanno, lui ha tenuto i biglietti per tutto il gruppo, quindi non è che, non ha vinto tutto, numero 18, 18, la cornice per mettere la foto di oggi, questa è la foto della morosa, bravo, bravo, numero 17, numero 17, ora, ma c'è la faccia di uno che non bevete, bevi? Uno alla volta!